La Pagnolada, lo stadio Massimino in perfetto stile spagnolo, una protesta più civile possibile. Il Massimino prepara la Pagnolada. I tifosi rosso-azzurri attraverso un passaparola ricorrente anche sul web hanno manifestato l'intenzione di riproporre sui spalti dello stadio etneo la Pagnolada, lo sventolio di fazzoletti bianchi in segno di protesta contro i torti arbitrali subiti. Nato in Spagna è divenuto segno di indignazione e di protesta nel mondo del calcio. Lavoro è un annuncio importante, per segno di protesta, di portare dei fazzolettini bianchi e di svendorarli su tutta la tribuna, perché per tutto quello che sta succedendo non ce lo meritiamo, stiamo sapendo giocare a pallone e noi abbiamo dei valori, facciamo capire chi siamo veramente, i Cervasoni, i Rizzoli, mercoledì hanno dato un ricore che si poteva anche evitare. La Pagnolada ritornerebbe dunque al Massimino dopo due anni. La prima manifestazione di protesta per l'operato degli arbitri fu messa in atto prima di quel Catania-Inter del campionato 2010-2011. È un appello esteso a tutto il Massimino. A tutto il Massimino, sì, un fazzolettino bianco, lo sventoliamo, siamo civili e non succede niente. L'obiettivo è quello di farci sentire, di alzare la voce, perché stiamo subendo troppi torti, troppi. Da cinque settimane che il Catania subisce torti incredibili, non sono più l'errore arbitrale, ma sono cose veramente che qualcuno mi dovrà pure spiegare. L'appuntamento dunque per domani, quando le squadre entreranno sul terreno di gioco. Ogni volta che lo dico, non so perché, c'è qualche azione da gol, segniamo. E poi io e lui abbiamo due cose in comune. Abbiamo il Catania e facciamo il compleanno lo stesso giorno. Ciao. Nino!